Un posto al mare, quest'oggi abbiamo cambiato isola, siamo nell'isola di Cofunissi e precisamente in questo momento ci troviamo alla spiaggia di Finicas che prende il nome dall'omonima taverna costruita nel 200 avanti Cribbio come vedete il panorama è molto blu, questa spiaggia è molto blu vi faccio vedere, attenzione venite, vi faccio vedere una cosa importante guardate la magia a volte della natura, che accorti in modo che quest'acqua si trovasse proprio su questa spiaggia ecco la mancanza soltanto di uno di questi due elementi avrebbe fatto sì che questo posto fosse inutile adesso qualche ceno su questa spiaggia, pensate che il presidente dell'America, Clinton, è stato qua nel 1999 quando un giornalista gli chiese, ti è piaciuta la spiaggia di Finicas? il presidente ha risposto yes, che in inglese vuol dire sì come vi consigliamo di frequentare questa spiaggia? un consiglio importante, come possiamo andare? vi consigliamo di visitare questa spiaggia con uno zainetto come potete vedere è uno zainetto questo perché nel zainetto voi potete mettere le cose ecco vedete sono le cose immaginatevi a venire nella spiaggia di Finicas senza uno zainetto e dovreste tenervi tutte le cose in mano sicuramente sarebbe molto scomodo invece nello zainetto voi potete rimettere le cose nel momento in cui non vi servono all'occorrenza lo zainetto si può anche chiudere in una tale che non entri la sabbia ecco in definitiva possiamo dire che la spiaggia di Finicas a fatto che voi veniate con uno zainetto è un posto bello